benvenuti a family economy school le puntate di family economy con tutte le parole di economia e finanza oggi parliamo di sostenibilità e investimenti esg conosciamoli meglio insieme ad alberto cascione analista finanziario di altro consumo e maurizio guasconi consulente finanziario mi metto subito in ascolto e inizio a prendere appunti che cosa sono gli investimenti esg investimenti esg sono tutti quegli investimenti che oltre che perseguire come obiettivo è la creazione di un rendimento per l'investitore tengono conto anche di tematiche di natura ambientale sociale e di governance che possiamo definire un po tradurre come un po la condotta della azienda sono investimenti quindi che hanno degli obiettivi in più rispetto all'investimento tradizionale e il valore di questi investimenti esg risiede nel fatto che vogliono creare per l'investitore un valore che non è solo e solamente finanziario ma che tiene conto anche di tematiche ambientali e sociali nella pratica un investimento esg avrà come finalità quello di creare in un rendimento per per noi investitori quindi di accrescere i nostri risparmi alla nostra ricchezza che è un po il cosiddetto valore finanziario l'obiettivo tradizionale di un qualunque investimento che permane ma questo affianchiamo con investimenti esg anche la ricerca di obiettivi sociali quindi si terrà conto di come le società si comportano con i propri dipendenti o con le comunità locali in cui operano si terrà conto anche di come l'attività di un'azienda impatta sull'ambiente inquina quanto inquina aiuta l'ambiente per esempio con il ricercaggio dei rifiuti e terrà conto anche di come viene condotta l'azienda un po dell'etica aziendale di come un'azienda tiene tratte proprio dipendenti dal punto di vista degli stipendi è chiaro quindi che alla fine un investitore con investimento sg crea un valore che è sia per le proprie tasche perché la ricerca del rendimento rientra sempre come finalità ma tiene conto anche di l'impatto che ha in tutto quello che ci sta attorno che sono le persone e l'ambiente non per nulla si parla anche di valore integrato degli investimenti sg perché? perché l'aggettivo integrato dà proprio l'idea di come sia una somma di valori non solo finanziari ma anche e soprattutto di valori quali rispetto per l'ambiente e per le persone perché è consigliabile per un investitore scegliere un investimento socialmente utile? l'obiettivo principale è creare del valore condiviso per tutti i soggetti coinvolti e per la società nel suo complesso credo che le persone anche a livello psicologico abbiano a cuore che il proprio investimento possa generare anche o contribuire a un mondo migliore e più sostenibile inoltre molti investitori sono attenti anche a escludere determinati asset peccaminosi come possono essere alcol, tabacco, materiale pornografico o giochi d'azzardo infine è consigliabile scegliere un investimento sostenibile perché promuove uno sviluppo sostenibile che come ricordato nel rapporto Brundenland del 1987 di molti anni fa dal titolo Our Common Future è quello sviluppo che consente alle generazioni presenti di soddisfare i propri bisogni senza compromettere ovviamente la possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bisogni Bene, anche oggi il nostro momento di educazione economica si è concluso ci vediamo al prossimo appuntamento per nuove parole di Economia e Finanza Per vedere tutte le puntate di Family Economy seguici sui nostri canali social alla pagina Facebook ed Instagram Family Economy sul nostro canale YouTube e sul sito Professione Finanza e su familyeconomy.it Grazie a tutti